In un minuto The Disaster Artist Film diretto e interpretato dal figlio di Goblin The Disaster Artist parla della genesi di uno dei film più brutti che la razza umana abbia mai concepito The Room di Tommy Wiseau, personaggio a quanto enigmatico Il film si rivela essere una commedia molto divertente che si concentra sul lavoro della pellicola prima citata Ci mostra come questo fantomatico essere abbia potuto concepire una tale bruttura Una persona che nonostante non capisca nulla di cinema, spinta dalla voglia di fare l'attore dell'amico Scrive, dirige e soprattutto produce un film E sottolineo produce perché ragazzi il film è costato una cosa come 6 milioni di dollari Tommy, dove cazzo gli hai tirati fuori questi soldi? Chi sei? Da dove vieni? Come fai ad avere tutti questi soldi? Soldi, soldi Comunque se siete interessati nel sapere se è un film che dovreste guardare, la risposta è sì Il film diverte, è leggero e soprattutto vi fa venire voglia di guardare quel capolavoro di The Room E quello sì che vi strapperà un sacco di risate Film, approvato Grazie a tutti